Caldo, all'aria salobra, salobra, pura, là in fondo c'è il ramo del lago di Como, sponda le chiese, questo sentiero acculla, diciamolo pure così, mi addormentai in un dolce pensiero, nel pensiero del mio cammino e della mia vita, tra alberi secchi che ci sono qua circostanti e questo è un bellissimo sentiero che conduce, dopo una bella camminata, all'ospedale di Lecco, zona Germanedo, qui è l'uscello che rinfresca un po' le mie idee, oggi bellissima giornata in questo sentiero, guardo di nuovo questi rami che spuntano dalla terra, questi alberi novelli, e il sentiero che è favoloso, rimango qui ad abitare, ad essere una perenne abitudine, dove il mio io viaggia in questa mia bella solitudine, dove mormorai a me stesso, Aldo esisti, esisti in questo paesaggio naturalistico, dove sottostante ho un luscello, aggancio bene le mie idee, valorizzo me stesso in questo ambiente naturale, e vado pian pianino verso l'ospedale Alessandro Manzoni, proseguendo da questo sentiero, bellissimo, accostato a un ruscello che fa un leggero soffio di vita, perché non è così eccessivo come altri ruscelli, ma è un mormorio dolce, dove la mia mente elabora in un senso anche di parte lacustre, e infatti noi esseri umani siamo dotati il 90% d'acqua e viviamo in mezzo allo sbattito di questo luscello, lo scopro bellissimo, in alcuni ponti, eccolo qua, qui è veramente eccezionale, vorrei fare il focus, qui mi ritrovo me stesso, ecco la mia interiorità, bagnata da questo luscello, dove io bevo sorgente acqua di vita, acqua di vita, qui mi sto avvicinando a delle piccole cascate, ma molto belle, chiamate in dialetto del tuff, chiamate così, oggi, oggi che ho ricaricato questo video, sono entusiasmo, entusiasto veramente di aver fatto questo percorso senza fatica, sì, un respiro profondo ce l'ho, adesso in altitudine, soprattutto devo trovare la strada percorribile per andare a fotografare le cascatelle del tuff, che me l'ha detto un mio amico, mi ha fatto indicato esattamente dove io potrei andare più vicino senza farmi male, occhi e piedi dove metto i piedi, ecco qua, intanto guardo il sole che bacia la terra, che bacia questa bella primavera 2021, ma si può dire tutte 2020, 2019, sono sempre belle le primavere, sono entusiasmanti, ecco qua, che sono quasi, 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 quasi arrivato, non mi manca il fiato, sono pieno di energia salubre qua, e fotografo dove mi ha detto il mio amico la cascatella del tuff, ecco che mi accosto vicino, vicino, occhio, non cadere all'ultimo momento, sono quasi arrivato, quasi, nel laghetto mio personale, eccolo qua, da vicino, il laghetto, dove d'estate mi bagnerò i piedi, eccola la cascata, bellissima, sono all'ecco, sovrastante la città, sono dall'ecco maggianico, vado a piedi fino all'ecco germanedo e rifotografo di nuovo questo getto d'acqua, puro, semplice, che mi ricordano altre cascate della Lombardia, ma qui primeggia la mia tentorierità, perché l'ecco è un'abitudine arrivare in questa città, perché ho vissuto la gioventù, perché mi piace e mi tufferei benissimo in questa cascata, dove posso anche bagnarmi, non fa freddo oggi, non fa freddo, amo questo senso naturalistico, guardare qua dove sono, guardare il cielo sovrastante azzurro, le primole, segno di primavera, ecco qua le cascatelle del tuff, sono arrivato, un saluto ad un amico di Lecco, a tutti gli amici che ho conosciuto in questa città, Aldo.